Ciao Meghi, come va? Bene. Mamma Claudia, può essere? Ok, facciamo un applauso a mamma Claudia che prima ha incontrato. Allora, non vi faccio perdere tempo perché iniziamo ad essere un po' stanchi. Io ne sono? Le 11. Le 11. Le 11. Eh ma allora abbiamo ancora altre 4 ore, ma andiamo. Tanto cosa dovete fare questa sera? Lei, lei col maglione arancione. Eh, possiamo andare avanti. E questi due signori qua? Sì sì. Qui si chiama lei? Io Francesco. Signor Francesco. La signora? Chi la conosce? Siete... Capigliatura simile? Come si chiama lei? Ines. Perché loro io da un po' che siccome sono qua, li osservano, io li ho osservati un po' tutti. Ed erano attenti e ascoltavano la musica. Vi è piaciuta la serata? Voglio farvi un applauso io. Facciamo un applauso a Ines e a Francia. Bravi. Bravi. Bravi perché il fatto di vedere persone attività è anche bello. Allora, Maggie, sei pronta? Signore, un pezzo di adere. Chi si chiama? Stiamo all'IQ. Stiamo all'IQ. Maggie, ripati e Nicolò servitiva il pianoforte. Stiamo all'IQ. Stiamo all'IQ. Stiamo all'IQ. Stiamo all'IQ. Stiamo all'IQ. Stiamo all'IQ. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti